Un piccolo hard test per il BlackBerry Storm su CellulariMagazine.it Alcuni lettori ci hanno scritto dicendoci che avevano visto un video in cui lo Storm veniva maltrattato con chiavi e quant'altro Vogliamo provare anche noi, come vedete lo schermo non ha graffi Un paio di chiavi rubate in redazione C'è anche ci troviamo anche un sassolino Coltellino svizzero aperto C'è un otto la scatola Leviamo il contenuto E' un po' sporco Ma come potete vedere nessun graffio E' vero Non c'è alcun graffio E' vero E' vero E' vero